Sindaco, Piazza Almazza è stata inaugurata poche settimane fa con una grande cerimonia, purtroppo però due giorni fa probabilmente un furgone, un SUV è salito sopra la piazza, sopra la parte pedonale, ha distrutto parte della pavimentazione. Si, si tratta solamente di un piccolissimo pezzo della piazza che abbiamo già messo in sicurezza, nei prossimi giorni andremo a cambiare il materiale, dispiace perché come aveva preannunciato il progettista o con un mezzo pesante che aveva invaso la piazza o qualcuno che di proposito si era messo lì proprio a rompere queste lastre fatte in un materiale molto resistente, adesso con le immagini siamo risaliti un po' alla problematica, stiamo capendo, cercando di identificare il numero di targa del mezzo che è salito sopra la piazza. Quindi è sicuro, si può risalire sicuramente al furgone o al mezzo? Sì, è un mezzo, noi avevamo due dubbi perché ci sono anche dei ragazzi nelle riprese che avevano attraversato la piazza con degli skate, avevano fatto dei salti all'interno della piazza, anche questo chiediamo gentilmente di non farlo, però pare che con molta probabilità sia stato un mezzo pesante che ha attraversato la piazza, probabilmente non si è reso conto che quella piazza non è transitabile agli automezzi, ma è transitabile solamente ai pedoni, qualcuno probabilmente ha rigirato proprio attraversando la piazza. Quindi telecamere di videosorveglianze che hanno fatto il loro dovere, quindi buon per l'amministrazione averli installati in quel preciso luogo. Sì, ce ne abbiamo oltre 100 attive sul territorio comunale, molte puntate sui punti di maggiore affluenza, tra cui le piazze, su piazza del Marsi ce ne sono quattro, quindi comprendete bene che qualsiasi situazione che potesse accadere all'interno di quella piazza era vagliata e quindi noi abbiamo insieme al comandante dei vigili urbani analizzato le immagini e ci siamo resi conto di quello che era accaduto.